In Italia non ci sarà mai la rivoluzione finché esisteranno le cover band. In Italia non ci sarà mai la rivoluzione finché esisteranno le cover band. L'Italia non ci sarà mai la rivoluzione finché esisteranno le copertette. Scusate, ora stiamo in movimento, la registrazione è solo, ma questo è un po' più importante. Grazie.